Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 73 Senese a Retina in direzione Sansepolcro il tratto dal chilometro 150 al 163 è chiuso. Gli aerei possibili ritardi o cancellazioni per quanto riguarda i voli in partenza dall'aeroporto di Firenze. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!